Oggi noi di fronte all'osteoporosi non abbiamo più il problema di riconoscerla, perché abbiamo i mezzi per fare una diagnosi accurata e tempestiva e non abbiamo tutto sommato il problema di trovare dei trattamenti efficaci. Noi oggi abbiamo molti farmaci che sono in grado di ridurre notevolmente il rischio di frattura, il nostro problema è che non usiamo a sufficienza questi mezzi diagnostici e questi mezzi terapeutici o li usiamo non in maniera accurata e ben diretta nei confronti di chi ne ha necessità e quindi è soprattutto in questa direzione che l'Italia dovrebbe muovere le proprie sforzi in termini di sanità pubblica per cercare di ottenere realmente quella riduzione del numero di fratture che potrebbe essere raggiunta con i mezzi di cui oggi disponiamo.